Tu sei sempre più sbagliato come io e tu sei sempre Preciso! Solo un'ora! Posso stare solo un'ora in ufficio? No che non posso stare! E vuoi da me? Il Capitano mi ha chiamato che sulla torta voleva scrivere buon compleanno! E beh, un'ora per scrivere buon compleanno! No signor, per scrivere ci ho messo due minuti! E allora? E poi un'ora ci ho messo per lavare la macchina da scrivere! Tutta la panchina da resta! E vuoi da me? Come? Mille foglie! Mille foglie!